Oggi è il compleanno, è il compleanno della porta qui all'ospedale Mazzini, al secondo lotto. Sono due anni che non funziona. Ne danno il lieto annuncio i topi che entrano abitualmente e tutte le persone che sentono freddo e noi che paghiamo il riscaldamento attraverso le nostre tasse. Non vogliamo disturbare il manager Fagnano, il direttore amministrativo di Giosia o la direttrice sanitaria Mattucci. Però è un caso importante. Perché questa porta deve rimanere sempre aperta? Per quale motivo? La sicurezza, l'igiene, la salute, le tasse dei cittadini?